Sono sentito molto gratificato da questo corso che i giovani d'oggi dovrebbero buttarsi su questo mondo lavorativo perché comunque le fonti rinnovabili stanno crescendo molto, essendo un mondo ancora in crescita da molte opportunità lavorative soprattutto nei giovani come me che quindi hanno voglia di lavorare e voglia di mettersi in gioco per arrivare sempre a crescere. Sapere di dare un contributo alla comunità, io consiglierei questo percorso per chi vuole diventare un professionista del futuro nelle energie elettriche.